Il porto di Livorno è pronto ad accettare le sfide della globalizzazione a patto che si faccia in fretta a rendere le infrastrutture, soprattutto quelle retroportuali, all'altezza del compito. Lo ha detto il presidente della regione sul palco del teatro Goldoni di Livorno in occasione della conferenza annuale ESPO, l'organizzazione europea dei porti di mare che quest'anno ha scelto la città portuale toscana. Su Livorno e Piombino la regione ha investito 600 milioni di euro e ora le sfide sono quelle della digitalizzazione e della sostenibilità ambientale, ribadite anche dal presidente di Assoporti. L'innovazione tecnologica è necessaria, opportuna, in ogni caso è inarrestabile quindi non possiamo pensare di, e non vogliamo fermarla, dobbiamo governarla. Non è immaginabile che ci sia una innovazione selvaggia, vogliamo un'innovazione umana, un'innovazione rispettosa del capitale umano, un'innovazione che tenga conto dei tempi necessari per riqualificare la forza lavoro che oggi è nei porti. Obiettivo delle innovazioni infrastrutturali è intercettare nuove quote di traffici sviluppando logistica e automazione nei porti.